Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, nello scorso episodio cosa avevo fatto? Avevo fatto il dialogo con il tizio che sta in immondizia. Allora, io volevo migliorare un pochettino quello che era il nostro albergo. Volevo fare... ok, l'ho già fatto, c'è la seconda camera. L'ho già fatta, perfetto. Ok. Allora, quanti oggetti abbiamo? Allora, c'è un po' di spazio nell'inventore. Ok, prendiamo un po' di roba. Qua vende il progetto di una... di un lettino e... ok, un recipiente. Devo trovare un panino per il... Il... Trovare un panino per il... Ma si chiama? Mi viene in mente in giapponese Tanuki. Vediamo, vediamo. Un bel po' di pezzi. C'è un orsetto di legno. Ma c'è un divano spasciato. È il po' di pezzi. È un po' di pezzi. È un po' di pezzi. Grazie a tutti. 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 Non ci siamo ancora incontrati. Come sei finito qui? Allora, con i miei piedi attraverso una bella viva c'è... Invece è scursione. Forse è meglio questo. I contenuti... Allora, vabbè, provo... Allora, vabbè, provo a farlo morire da orso. Bene, l'attività fisica è sempre un'ottima idea. Aspetta, mi capisci. Sono stata qui in questi boschi per un po', penso di aver capito il succo di quello che stai dicendo. Ah, sì? Allora, cosa sto dicendo in questo momento? Reali, letterali, rumori da orso. Era abbastanza incomprensibile. Era abbastanza incomprensibile. Magro che potrei usare la pratica. Ora mi sento male, mi dispiace. Ahah, ti sto solo... ...prendendo in giro, insomma. Cosa ci fai? Inconsensivo antenerone come te qui. Allora. Sto cercando... ...Bernie. ...ehm... ...ho qualcosa per lei. Oh! Questo è il mio nickname. Ehm... Sono Bernie. Io sono Bernie. Oh, Sabine. Per mia madre. Ehm... Se sei mia madre. Ma... ...mi piace Bernie. Nessuno mi chiama più così. Chi te l'ha detto? Oliver. Per la persona del bus. L'automobilista del bus, insomma. Mi ha dato una lettera per te. Oh! Olly. Che tesoro. Non c'è da stupirsi... ...che si fidasse di te. Ehm... ...fammelo vedere. Non posso capire che l'abbia trovato. Olly. Donnola. Dov'era? Te l'ha detto? Non è una donna. Anche se capisco la somiglianza. No, no. Lui ha trovato l'ultima pagina del... del nostro Atlante. L'abbiamo trovato... ...l'abbiamo trovato... ...trovato... ...secoli fa. Aveva appena perso... ...aveva appena preso la patente all'epoca. Io avevo un cappello molto più piccolo. Noi abbiamo mappato... ...l'intravalle. Ehm... ...fì... ...vabbè, disegnato... ...dove mettere la stazione... ...per i suoi bus... ...e tutto il resto. Pensavo che fosse bruciata nel fuoco. Non sapevo che il fuoco... ...fosse così grande. Allora. Ascolta, so che hai fatto... ...tutta questa strada... ...ma potresti riportargli questa cosa? Scommetto che non so nemmeno... ...che ho il resto. Ok, adesso... ...ci hanno regalato... ...un... ...bussola. Compass. Allora, ecco qui... ...ah, ecco, puoi avere questo. Tu ti dirai a trovare la strada... ...e ritorno più velocemente. ...mh... ...ok. Va bene. Come si utilizza la bussola in questo gioco? Scopriamolo insieme. Ah, lei se ne va in giro. Allora. Ho ottenuto la bussola... ...che sblocca la visualizzazione... ...dell'intera mappa. E' possibile accedere... ...alla mappa dell'area... ...tramite il pulsante mappa... ...accanto alla mia mappa. La mappa dell'area... ...mostra tutti i marcatori importanti... ...i punti di riferimento nelle vicinanze. ...ok... ...qui ci sono... ...eh... ...funghi. ...mh... ...ci sono funghi... ...aspetta... ...sì... ...ci sono funghi là fuori... ...che dicono... ...possono darti... ...i peggiori incubi. Potrei sicuramente andare... ...a prenderne un po' adesso. Ok. E questo l'abbiamo fatto... ...quindi abbiamo consegnato... ...finamente la lettera. Allora... ...vediamo se ne va. Ah, sta salendo. Ok, ok. Allora, ottimizziamo questo compasso. Ah, come si fa? No, mi sa che non è... ...quì, characters. ...ok... ...mh... ...local map. Ah, ok, ok, ok. Quindi qua vediamo tutta l'area... ...com'è combinata... ...nel dettaglissimo. ...mh... 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 S'è più. ...mh... 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 signorino ancora lì sei tornato amico allora hai trovato Barney e gli hai dato la lettera allora ti ha chiamato Donola vabbè parla con far rumore di orso ok tu sei tu sei quell'uomo Buddy oh orso scusa quindi cosa ti ha detto lei mi ha dato questo per te oh wow wow amico lei ha trovato il resto questo è incredibile amico ho disegnato tutto questo per lei è stato divertente a parte guidare un autobus ovviamente ah certo guarda ci sono Stardust Earthlike e guarda dove siamo tu probabilmente non sai nemmeno di cosa sto parlando nella valle la valle è enorme ci sono posti che un autobus non potrebbe nemmeno raggiungere lo so è selvaggio ascolta sono qui da un po' solo io e i miei autobus ma non ci sembra giusto sederci sulle nostre gomme in quel modo sai nessuno ha davvero bisogno di me o dei miei autobus ci sono molto tempo ma con tutta la nuova gente che inizia a venire qui io penso che dovresti avere questo e guarda vedi dove sono queste vecchie fermate all'autobus se tu li aggiustassi i sistemi come hai fatto con il vecchio magazzino io potrei potrei darti le corse gratis corse autobus gratis diamine non credo che gli orsi abbiano tasca per i soldi comunque ok bassini oh perfetto si ci serviva due e poi un atlanta ah guarda il primo è proprio lì accanto al capannone che ne dici allora partiamo col fatto dagli autobus ha ottenuto l'atlanta che sblocca la mappa la vista mappa del mondo è possibile accedere alla mappa del mondo facendo clic sul pulsante mappa del mondo nel pannello mappa dell'area qui puoi vedere dove si trova Hank nel mondo e quali area ha scoperto perfetto ottio andiamo a provare a fare questa cosa confermiamo ok hai già riparato la fermata dell'autobus si l'ho fatto a prova con rumori da orso oh grande notizia amico Oliver sembra un tenerone amicavole e accomodante una delle poche persone che sono rimaste in giro per la valle tut d'altra parte una creatura disonesta con un gusto per le sciocchezze per le cose rubate che in cagliere ha rubate una stona coppia che vive in particolare armonia questo è grande amico sento l'odore della benzina che brucia attraverso i peli del mio naso ascolta ogni volta che ti imbatti in una di queste fermate lava e mettici sopra un nuovo cartello e boom ti porterò quando vuoi allora casetta di attenzione Oliver ha nuovi articoli disponibili visita il negozio per trovare un articolo disponibile per l'acquisto ok stupendo ok ok ah bus station vediamo cosa ci dice il tutorial allora le stazioni di autobus rotte possono essere trovate in tutto il mondo riparare la stazione degli autobus nell'aria del del viaggio veloce ti dà la tua posizione i post degli autobus possono essere trovati nel negozio di Oliver insieme ad altre stranezze oggetti che possono farti progredire ok perfetto allora qua c'è forse il tonno ecco il panino col tonno la roba che voleva ok va bene perfetto allora ci lasciamo qua che abbiamo completato la quest di Oliver poi andiamo a fare la quest di Tuk si chiama come Tuk lì che si mangia molto buone va bene allora alla prossima puntata ciao